Il maltempo di questo fine settimana ha iniziato a causare i primi danni in alcune zone della regione. Nella serata di sabato 8 ottobre a Bastia Umbra un fulbine è caduto su una palazzina alla terza del numero 16 di Viale Umbria. Sul posto immediatamente sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco di Assisi con un'autoscala proveniente dal distaccamento dei vigili del fuoco di Foligno con la polizia locale di Bastia Umbra al seguito del Maggiore Carla Menghella. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il fulmine abbia colpito l'antenna del palazzo scendendo giù ma da quanto appreso dai pompieri pare non sia riuscito a entrare dentro la palazzina. Tanta la paura da parte dei residenti che preoccupati hanno dato subito l'allarme. Fortunatamente nessun ferito e i danni di questa saetta sono stati limitati.